Bella a tutti ragazzi per questo nuovissimo video che ho il vostro XB Rizzo, oggi andiamo a parlare degli ottavi di finale e comunque di tutto il percorso dei nostri italiani e nonna. Inoltre mi da lasciare un bel like al video, commentate e iscrivetevi. Allora, ottavi di finale, Djokovic contro Christian Garin. Garin l'ho visto male. Primo turno, Zapata Miraias è riuscito a portare Garin al quinto, quindi anche lì grandi rischi. Contro Polmans, Garin l'ho visto tentennare, magari troppe palle break con CS. Con Djokovic non può assolutamente essere così. Contro Martinez magari, ecco, è stato un pelino più convincente, però qualche set lo ha sempre regalato in queste tre partite. Djokovic dall'altra parte ha regalato un solo set poi alla wildcard trapper, poi battendo 3-0 Kevin Anderson, 3-0 Kudla. Kudla, piccola nota negativa, ha battuto il nostro Andrea Seppi 3-0, dopo che Seppi comunque aveva passato il primo turno contro Giosuosa. Ma non ci preoccupiamo di questo, il nostro nonnino è sempre il nostro cuore e sicuramente ci farà ancora emozionare anche alla sua età. Fukciovic contro Andrea Rubioff, ricordiamo che Fukciovic abbia attuto il primo turno Janik Sinner 3-1. Non ho più parole ragazzi per parlare di Sinner in questo periodo. Questa partita la vedo molto complicata. Se Rubioff mi gioca come ha giocato contro Fabio, qualche possibilità ce l'ha. Ora io non vorrei dire bestemmie, però ragazzi, questo giocatore non mi dispiace affatto. Ha battuto Svarsman, non ha giocato la partita contro Vesely, perché alla fine si è vinto il primo set, però poi Vesely si è fatto male e si è ritirato. Ha battuto Sinner, quindi comunque ipoteticamente passerebbe Rubioff, però se passa Fukciovic sono il quadruplo più felice. Kachanov contro Korda, qui c'è stato veramente in questo spicchio di tabellone una cosa incredibile, perché il primo turno ha perso Zizi Pass contro Tiafoe, poi Tiafoe ha battuto Popsipisil, Popsipisil, poi Tiafoe ha perso 3-0 contro Kachanov, che a sua volta aveva battuto McDonald e Gerasimov. Quindi diciamo che c'è una bella lotta, che alla fine era spuntata Kachanov, invece dalla parte dove c'era Korda c'è stata un'altra bella lotta, perché alla fine ci sono stati Korda contro Deminaur e ha vinto Korda, Korda vabbè contro Hoang vabbè, ha vinto Korda, e poi l'altro ieri Evans contro Korda, Evans il beniamino di casa, che alla fine ha lasciato il torneo. Korda ragazzi, Sebastian Korda si sta affermando, quello che do a fare Sidner alla fine lo sta facendo Korda in questo torneo, ma vabbè, ci sta, magari è una superficie più agevole per Korda. Abbiamo Shapo contro Boudistagut, Shapo Lavov diciamo che non lo vedevo così tanto propenso ad andare avanti, anche perché primo turno contro Kobbel Schreiber, è andato al quinto, pensavo che il tedesco potesse vincere, a parte Kobbel Schreiber ha avuto veramente un percorso moltaggiato, dall'altra parte Boudistagut contro Kecmanovic ha avuto qualche problema perché è andato al quinto, però alla fine anche l'altro ieri contro Kopfer ha vinto 3-0. Vabbè, questa qua sarà una bella partita, secondo me Boudistagut ha l'esperienza per mettere in difficoltà comunque Shapo Lavov che è molto giovane, però sarà veramente veramente anche questa una bella partita. Poi, ah, finalmente arriviamo a Berettini-Vasca, l'avevo detto ragazzi, avevo pronosticato Berettini che andava avanti, penso che Contrivasca possa vincere molto facilmente anche qui Berettini, che ha avuto comunque una, la strada più facile, ripeto, ha battuto Ghidopela 3-1, ha battuto Van Dash Bich Bichene 3-0, ha battuto Bdene 3-0, quindi diciamo che degli italiani è stato quello magari avvantaggiato, ok, nella, fino adesso, finora, finora, perché poi ai quarti non si sa mai, ecco, perché c'è un Alexander Zverev sempre lì pronto, Imaschka invece, un R3-0, ha battuto Shardy 3-0, ricordiamo che Shardy ha battuto Karatsev, ancora lì 3-0, e poi ha battuto Jordan Thompson, che a sua volta Thompson ha battuto Kasper Rudd, io questo ottavo l'avevo pronosticato Kasper Rudd-Berettini, Thompson mi batte Rudd, poi va a perdere contro Imaschka, allora Imaschka-Berettini. Vabbè, penso che ai quarti ci possa arrivare molto facilmente, contro Aguareliassim o Zverev. Allora, non mi aspettavo che Aguareliassim potesse vincere contro Kyrgios, Kyrgios contro Magger, vabbè, ha vinto facilmente, contro Umber c'è stata una bella lotta al quinto, però ragazzi si è ritirato, non so adesso per quale problema si è ritirato contro Aguareliassim sull'1 pari, su un set a testa, Aguareliassim ha battuto molto facilmente Montero 3-0 e poi Michelinmer 3-1, vabbè, ci sarà questa sfida contro Zverev, Zverev devo dire che, vabbè, si è avuto anche lui veramente un percorso facilissimo contro Kyrgios 3-0, contro Sandgren 3-0 e contro Deleur Fritz, che veramente ha fatto qualcosa di incredibile, Fritz ricordiamo che Fritz ha avuto un'operazione 15 giorni prima del torneo, e ha battuto 3-1 Nagashima, quotato a 1,5 per il problema dell'operazione. Tutti dicevano, Fritz va lì solo per partecipare, invece ha battuto lui, ha battuto Johnson, cioè quindi tanta tanta roba Fritz, vabbè, però passa Sverev e quindi andrà contro Kyrgios 3-0. Poi abbiamo Federer contro Lorenzo Sonico, grandissima partita qui, dove Federer ha rischiato molto contro Manarino, attenzione, contro Kaskier 3-0, contro Norrie 3-1, anzi pensavo che Norrie potesse creare qualche problema in più, comunque a Federer non è stato così, e vabbè, e via. Poi Sonico dall'altra parte ha battuto facilmente Giausosa, ha battuto molto bene Galan, e poi ha battuto Duke Ward 3-0. Bello sconto ragazzi, un ottavo di finale Federer contro Sonico. Federer secondo me è abbastanza stanco, non vorrei comunque dire altro, però un quarto di finale che mi arrivano sia Berrettini che Sonico sarebbe una bella spinta per l'Italia. Poi l'ultima partita Medvedev contro Urkac, Urkac si è ripreso dopo Miami, che dicevano che tanto doveva perdere 100%, ha battuto invece Musetti 3-0, non so come è possibile, come parte ragazzi, Urkac, l'ho sempre detto, è un grandissimo tenista, è vero che si era un po' spento dopo Miami, però si è ripreso alla grandissima, ha battuto anche Marco San Giron, ha battuto Public, tutti e 3-3-0, quindi tanta tanta roba. Medvedev ha rischiato tantissimo, perché? Contro Struffo, vabbè, 3-1. Contro Alcaraz, 3-0, ma ieri sera contro Cilic stava sotto di 2-0, 2-7-0, è riuscito a recuperare 3-7. Non lo so come abbia fatto, Cilic stava giocando così bene che ho detto, ok sì, qui mi passa Cilic contro Urkac e invece Medvedev si è svegliato all'ultimo e poi è andato alla vittoria. Mi aspetto che passi Djokovic e passi Fukciovic, nel mio cuore Fukciovic nella testa Rubliov, vabbè quindi sarà un quarto di finale Djokovic contro Fukciovic o Rubliov, che tanto alla fine poi vincerà Djokovic e andrà in semifinale. Mi aspetto Kacianov-Korda, mi aspetto una vittoria di Sebastian Korda e una vittoria di Boudistakut, quindi tanta tanta roba qui e poi il vincente andrà contro Nova Djokovic. Poi sotto abbiamo Berrettini che vince facilmente e mi vincerà anche Sverev, ragazzi, quindi un quarto di finale veramente, veramente ostrico qui. Federer-Sonego spero una vittoria di Sonego, anche se Federer, ragazzi, è sempre nel nostro cuore. Medvedev-Urkac, mi aspetto che Medvedev torni a essere il Medvedev. Quindi sì, sarà una bellissima, bellissima partita qui. Una bella sfida Berrettini-Sonego, vabbè, già, già sto sognando, già sto sognando. Comunque, dal vostro XB è tutto, lasciate la commenta e iscrivetevi. Ovviamente mi aspetto una finale Berrettini-Jokovic. Un bacione, ci vediamo in un prossimo video.